E' stato un rapporto difficile, complesso. Inizialmente ci fu una buona collaborazione. Il G8 è una manifestazione di competenza esclusiva del governo. La città si limita a ospitarlo. Ci fu una buona collaborazione con riguardo alla Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che era retta dall'On. Linda Lanzilotta, si collaborò per cercare di organizzare le varie manifestazioni. Ma a un certo momento questa competenza fu sottratta alla Lanzilotta e fu trasferita al Ministro Dini, il Ministro degli Esteri. E a quel momento cominciò per noi una nebbia complessiva. Non sapevamo a chi rivolgerci. Si parlava di cocktail, ma nessuno ci diceva su come dovevano essere organizzate le manifestazioni. Cominciarono a circolare voci che non ci sarebbero dovuto essere nessuna manifestazione, ma la cosa sostanzialmente era impossibile. Nel mentre noi lavoravamo moltissimo per l'apprestamento della città. Fu in quel momento che si fece via Garibaldi, piazza dei Ferrari e così via. Poi ci fu il cambio di governo. Nel senso che vinse Berlusconi, Berlusconi realizzò un nuovo governo e agli esteri c'era Ruggeri. Che prese in mano la situazione, diede delle indicazioni come governo sullo svolgersi delle manifestazioni. E poi, di fatto, quando poi cominciò lo svolgimento effettivo del G8, noi come Comune fommo totalmente esclusi. Dopo il G8 ci fu invece un intervento, in quel momento dal Ministro degli Interni, che ci venne corrisposto a una somma di circa 15 miliardi di lire, se ben ricordo. Che poi sono 7 milioni e mezzo di euro di oggi, che furono più che sufficienti per risarcire. E qui aveva avuto dei danni. Anche le stesse aziende municipalizzate furono risarciti, perché ci pagamo con questi soldi anche le insegne rivelte o i cassonetti bruciati. Avanzarono anche dei soldi, circa, se ben ricordo, un miliardo e mezzo, due miliardi, che poi ci furono mantenuti lo stesso, quasi una specie di indenizzo da parte dello Stato per tutto quello che era successo nella nostra città. Noi in quel momento, in un breve lasso di tempo, in pieno coordinamento con la Prefettura, il Proveditorato, la Sovraintendenza, aprimmo decine di cantieri. E questo lo riuscì a farlo perché, diciamo, l'apparato comunale funzionò benissimo. Mi aiutò moltissimo in quel periodo anche la società Aster del Comune, che lavorò molto, molto bene, secondo me, in quel momento. E riuscimmo, in un breve lasso di tempo, a fare degli interventi assai significativi. Dalla domenica, il giorno dopo la grande manifestazione del sabato, a lunedì, la città fu totalmente nella parte danneggiata, ripulita. Ricordo ancora i camion di Amiu che uscivano per pulire la città in modo perfetto. Tanto che sembrava, in certi momenti, molto più pulita, dopo queste vicende, che nel caso ordinario della vita di tutti i giorni. E Metti lavorò benissimo, Amiu lavorò magnificamente. Il lunedì mattina i genovesi ripresero la vita normale come se non fosse successo nulla. Io ricordo ancora una banca in Corso Sardegna che cominciò a fare delle operazioni bancarie, avendo ancora la vetrina rotta, che non era stata ancora sostituita. La città, secondo me, si era comportata bene. Era naturale che alcuni lasciassero la città in previsione, perché c'era un atteggiamento veramente molto forte, di tipo terroristico per gli abitanti. Chissà cosa sarebbe successo, ma poi ci fu solidarietà, ci fu comprensione, ci fu capacità di riprendere una vita ordinaria nel tempo più breve possibile. C'era la sensazione di essere un padrone di casa che doveva accogliere questa manifestazione sino a quando non cominciò a svolgersi effettivamente. Perché nel momento in cui apparvero le famose grate, di cui io ignoravo l'esistenza, perché furono preparate all'oscuro da parte dell'amministrazione comunale, io mi sentì come un padrone di casa che gli stanno spostando tutti i mobili, che creano delle tramezze improvvise e mi trovai a essere in una città, Genova, che era per me sostanzialmente estranea. Si fu drammatico da questo punto di vista quando la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico decisero di mettere su un fondo a Piazza della Vittoria, di mettere dei container addirittura per sbarare l'ingresso dei manifestanti verso la zona rossa. In quel momento lì io protestai anche con la prefettura, mi disse una cosa inaspettata totalmente. Ci sono, ricordo ancora, nella mia mente delle immagini vivissime di questa zona rossa deserta, sbarata e contemporaneamente le manifestazioni esterne. Fu in quel momento che cercai anche il venerdì, che era considerata la giornata più difficile, perché c'era il tentativo di entrare nella zona rossa, che presi contatto con Agnoletto e con lui concordammo, che ormai le manifestazioni si erano svolte, un ritiro pacifico dei manifestanti, ma poi sopravenne la morte di Carlo Giuliani che cambiò completamente lo scenario. Sì che poi la manifestazione del sabato fu una manifestazione molto, molto complessa e difficile. Quando venne la vicenda della Diaz mi fu detto che era una normale operazione di polizia. Poi abbiamo capito dopo che era un'operazione di polizia veramente eccessiva e sbagliata. E conseguentemente è un'operazione che giustamente è oggetto di valutazioni penali da parte della magistratura penale. Quindi c'era una sensazione che succedessero delle cose all'esterno della zona rossa che erano fuori controllo. Io avevo la netta impressione che tutto lo Stato o il governo si fosse concentrato a difendere la conferenza, l'incontro dei capi di governo e avesse lasciato totalmente sguarnitta alla città. Ma a mio giudizio sarebbe opportuno che riportasse l'attenzione, l'ho detto più volte, su quelli che erano i grandi temi politici di quel momento, che erano da un lato la legittimità che otto capi di governo abbiano a decidere le sorti del mondo, che erano sulla prevalere di una globalizzazione molto ingiusta per molti profili e come tale da combattere, sulla rinuncia della politica a controllare i fenomeni economici, che sono i dati significativi di quella vicenda del G8, che si ebbero non soltanto a livello delle manifestazioni, delle giornate clou, ma furono preceduti da una serie di incontri. A Genova si riunirono tutti i rappresentanti del movimentamento cooperativo nel mondo, vennero i sindacati mondiali a fare degli incontri, ci fu una conferenza in cui intervenne anche il cardinale Tetamanzi dicendo delle cose molto significative e giuste e opportune. Quindi noi abbiamo avuto un periodo di circa uno o due mesi precedente allo svolgimento in cui nella città ci fu questo acceso confronto e dibattito su delle problematiche che restano ancora oggi sostanzialmente inalterate.